Lei si dovrebbe vergognare di queste cose che fa Lei dovrebbe alzare Si dormi, si dormi, si non lo sa Allora, sentite, ma avete una faccia tosta, terribile Parli come bali, sai Non offendere, eh Non offendere Guardate come parlate voi Perché sai, perché sai Eh sì, mettiamo le cose a posto Tanto per provostare Eh, mi state toccando da tre ora E io sono stufo di sentire queste mani addosso Appiccicose Come appiccicose? Cosa mani addosso? Siete voi che mi state toccando Voi, non io E va bene Io tocco Ma lei perché mi fa il ritocco? Ma che ritocco del giro? Oh, guardalo qui Sì, è lei che mi state toccando Ah, vede, volete stare fermo, sì o no? E lei tenga giù le planche Ma io sto come voglio Ma io faccio così E voi non dovete fare Sì, certo Ma che è? Mostri Ma dovete un buco, certo dire Ma non dovete Vuoi ammassare, ammassami, te Sentire Io non so più chi mi trattenga Dallo scalamentare di fuori Dallo finestrino Ma ci siamo un'altra volta E fatelo questo benedetto scennuto Guarda un po' che cazzo Mi dobbiamo scapegare Ma si vedo Sta buttando via Sta buttando via una trasmissione Però le rispondo io adesso Sta buttando via Bravo, bravo, bravo Ha preso parecchi voti così Le vince di sicuro le elezioni Non sapete nemmeno scherzare No, ma che è? È uno scherzo questo? È uno scherzo? No, 10 con la rete di funzione A parte il fatto che lei non sta rispettando Le regole che ci siamo dati Quali? Quindi le persone che hanno concordato Per lei queste regole Di non entrare nel merito dei processi Ah perché lui non è entrato? No, perché lei lo può fare Ma l'ha fatto un elenco di processi Su ognuno dei quali lui dovrebbe dire Se lei ha ragione a tutto Vado avanti col prossimo servizio che le conviene Vado avanti col prossimo servizio E va bene, va, basta che mi dici niente Forse Su Su Eh, me lo vado Eh, eh Eh Abortire